Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi dell'acqua micellare ultra delicata di Sienne che strucca, deterge viso, occhi e labbra per pali secchi e sensibili con acqua di bambù, pantenolo e glicerina senza alcol e senza profumo. Allora, intanto, come tutti sapranno, la Sienne si trova a Lidl ed è il brand, diciamo, dell'idol per quanto riguarda il beauty, trucchi, la skin care, ecc. Io, come vedete, ne ho utilizzata un bel po' perché non so se si nota però fino a qui l'ho utilizzata e appunto diciamo che non uso spesso acqua micellare però, tutto sommato, con questa non mi sono trovata per niente male ha solo un difetto e ve lo dico subito dopo un po' di utilizzi, ma ovviamente non so se è una cosa solo del mio o se è successo anche a voi qui ha l'erogatore che schiacciando fa uscire il prodotto e dopo un po' di utilizzi il mio erogatore si è un po' difettato per cui perde prodotto e a volte non esce non so cosa sia successo esattamente comunque non c'è nessun tipo di problema perché io vado a specificarlo e col dischetto lo prendo da qua questo è l'unico rifetto che trovo a questo prodotto ovviamente l'acqua micellare non è come uno struccante bifasico quindi se voi vi truccate tanto, ad esempio il trucco che ho sui oggi non è pesantissimo però c'è la colla nelle ciglia finte che va rimossa molto bene altrimenti non viene via tutta, rimane un po' nelle ciglia e quindi per quanto mi riguarda oggi avrò bisogno anche di un altro aiutino però quando faccio un trucco da tutti i giorni o non metto le ciglia finte o utilizzo pochi prodotti in crema come liner in gel, cremosi, waterproof non ho nessun tipo di problema è buono per il prezzo che ha perché penso che costi meno di un euro non vorrei sbagliare, comunque al massimo costerà un euro non costa tantissimo, credo poi fatemi sapere se i prezzi sono cambiati qui sotto però io l'ho preso circa ormai forse quasi 11 mesi fa perché ormai il Lidl è anche lontano da casa mia sapete che siamo in lockdown quindi diciamo che l'ho presa un bel po' di tempo fa e l'ho utilizzata parecchio dura tantissimo, sono 250 ml quindi comunque c'è dentro tanto prodotto e per il prezzo che ha va benissimo nel senso che strucca abbastanza bene se avete un trucco non troppo corposo viene via tutto tranquillamente non brucia, unge pochissimo se non per niente e appunto se avete una pelle delicata va davvero bene infatti per pelli sensibili e delicate quindi direi che va proprio bene non ho molto da dirvi nel senso che una volta che vi ho detto che appunto a parte le difettucce strucca bene non c'è molto da aggiungere perché appunto è un'acqua micellare vi dico anche appunto che io di solito mi lucido facilmente con alcuni prodotti con questo non succede tantissimo giusto leggermente ma poi io lascio acqua via con l'acqua e non si vede più niente quindi non unge per niente fatemi sapere se l'avete provata e come vi siete trovati secondo me se la trovate in offerta o se la trovate vale la pena provarla perché costa pochissimo il suo prezzo nulla questo è tutto vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao